musica 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 allora lo facciamo insieme bello? come lo fa? vai 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 ma che ne sa? ciao a tutti ciao a tutti ragazzi allora lei è unisce ciao cosa è un nome di merda allora come sapevate vi avevo promesso di lasciare i panni quindi ho scelto lei ho scelto lei perché ero l'unica ho scelto lei quindi oggi facciamo lasciare i panni aspetta andare a prendere il contenitore perchè perchè guarda mi sono visti bianchi ah perchè sono bianchi e rosa oddio io pensavo fossero bianchi e rosa aspetta stessa cosa intendevo bianchi e rosa insieme vado e vado ciao bivanni ciao bivanni ciao bivanni oh ti hai il conto uno e che bebe Ancora Vai Bello va Ciao Vivanni Guarda sembra un coi Ciao Vivanni Sembra che ho Vabbè, lo dio Sorrisi No Sembra uno scogliato Ho scogliato le palla Ciao Vivanni 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 Quattro Ho vinto Ho vinto Non è schifo Ammaggio No è schifo Ora non l'immagino Ho vinto Davvero Manchino Ciao ragazzi Questa è la Giabbi Vanni Challenge Che vi avevo promesso Fatta con Amici Ma va fa culo Questa è la fai la strada Dai Ha vinto Non so come A quanto pare Sapirà le tante cose in bocca No 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 Allora dopo questo video uscirà un video che ho fatto con 300.000 effetti e c'è ci sono anche la Maya la Margot la Kelly ovvero i miei due cani e i miei due catti dovete dirmi sotto a questo video se vi piace Madonna Scusami Guarda che c'è Anzi non sotto questo video sotto il video degli effetti perché mi sono limitato Dovrete dirmi se vi piace l'idea questo video appunto degli effetti e se vi piace continuerò a fare video del genere Non mi fissare Come se avessi non so cosa Mi fa venire ansia a guardarti Oh Dio ha fatto un rumore bellissimo Mi penso su io lo sai Insomma Dovrete commentare il prossimo video quello degli effetti per fammi capire Cioè commento sia positivo o negativo Per fammi capire se volete ancora video gli effetti oppure no Mi attacco le capelli Ah guarda che l'ebola di buono Ah cazzo Mi hai preso un occhio Oh mi tiri i marshmallow Come hai So i marshmallow sono Guarda Guarda Ve questo si fa male un marshmallow Oh che mira di merda Ah allora basta siamo persone mature per favore insomma ragazzi questo era il video spero vi sia piaciuto e ci vediamo posti video ora vi metterò sotto i miei come sempre i miei i miei nomi dei social quindi seguitemi sui social per seguire appunto i miei disegni e i miei video ci vediamo al prossimo video facciamo così come fa sempre facciamo così perché siete 3 2 1 ciao